Lilt Running da Record. La corsa camminata per la prevenzione del tumore al seno ha fatto registrare numeri considerevoli. Ben 1800 donne, questa mattina a Morbegno, hanno colorato di blu la manifestazione, che ha come finalità quella di raccogliere fondi per la Lilt, Lega Italiana Lotto e Tumori di Sondro, e di promuovere uno stile di vita corretto. Dalla colonia fluviale, per un percorso di 7 km lungo l'Adda, un serpentone di partecipanti di tutta l'età hanno voluto diffondere il messaggio, prevenire è vivere. Un colpo d'occhio impressionante. La nona edizione della corsa non competitiva, che ha ottenuto il patrocino del comune di Morbegno, è partita alle 10.30 e si è conclusa con un pasta party aperto a tutti. Sport e solidarietà a braccetto, dunque, per un evento che in questi anni non ha mai deluso le attese. Presenti anche partecipanti provenienti da fuori provincia. È stata una giornata magnifica grazie anche al tempo, abbiamo superato il nostro record storico di partecipazione all'Ilt Running, sono più di 1.700 le donne presenti, che porteranno a casa, in famiglia e sul luogo del lavoro il nostro messaggio, che è quello della cultura della prevenzione. La prevenzione può battere il cacca. Un evento veramente importante perché il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione, quindi manifestarlo e comunicarlo, trasmetterelo a ben 1.800 persone, 1.800 donne che oggi hanno derito, siamo veramente contenti. È un'iniziativa, una manifestazione molto sentita, mi pare che quest'anno ci sia stato il record di partecipazione e sono contenta di essere qui anche quest'anno. Io ho partecipato a tutte le edizioni. Questa giornata è nata da un'idea di un gruppo di donne e negli anni si è sviluppata fino a raggiungere dimensioni rilevanti. Un clima di gioia e serenità ha sancito il successo della Kermess, oltre a una splendida mattinata di sole che ha fatto da cornice. Il tumore al seno è guaribile nel 90% dei casi, se prontamente individuato. Questo è il messaggio che si vuole trasmettere. Tra le protagoniste è anche la neomamma Alice Gaggi, campionessa valtellinese di corso in montagna. Sono contentissima di essere qui, partecipo tutti gli anni alla Lilt perché è una manifestazione questa a cui sono legata e devo dire che lo scopo è davvero nobile.